E' stato il virtussino Giampaolo Ricci, il grande trascinatore della vittoria azzurra contro la Russia, primo match di qualificazione agli europei 2021. A Napoli una prestazione maiuscola di carattere e di talento della squadra del Citi Meosacchetti, con i tanti esordienti in campo che hanno dato un contributo determinante, un successo rotondo e meritato. Oltre a Ricci, miglior marcatore con 19 punti e 7 rimbalzi, la Virtus ha contribuito con i 7 punti di Filippo Baldirossi. Buone le prove di tutti gli azzurri, tra cui Michele Vitali, Marco Spissu e Simone Fontecchio. Una partita che dopo un iniziale equilibrio si è sbloccata nel secondo quarto, soprattutto con le triple dei giocatori azzurri che hanno portato il vantaggio all'intervallo sul 41-33. Distacco che l'Italia ha mantenuto, incrementandolo progressivamente anche nei quarti successivi, grazie a un'ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza e al controllo dei rimbalzi. Nel finale gli azzurri, dopo aver spinto tantissimo sull'acceleratore, hanno rallentato, amministrando con sicurezza il notevole vantaggio che si è assestato sui 20 punti. Soddisfatto il CT Sacchetti, volevo vedere la faccia tosta e il modo di stare in campo di questi giocatori. Hanno dimostrato tanto, una partita non è niente, ma hanno dimostrato di avere personalità e questo è importante, ha detto il coach. Domenica la nazionale affronterà Tallinn l'Estonia per la seconda gara di qualificazione.